Il bello e il cattivo tempo, torniamo al Salone Margherita con il simbolo del Salone Margherita il maestro pingitore che stasera riporta in scena buon compleanno Per la verità il simbolo del Salone Margherita è Petrolini che lavorò qui cent'anni fa Comunque, sì, noi questa sera cominciamo buon compleanno con Martufello, Nadia Rinaldi Come si chiama lei? Stefano Ambrogi, Gabriele Labate E poi qui ci sono degli altri attori, lei è Deborah, lui è Camillo Oscara che conosce tutti quanti Lui non fa niente, e lì c'è il visconte Carle Torre La storia è un giallo comico che non posso svelarvi perché altrimenti non verrebbe nessuno Però vi assicuro che è molto giallo e ancora di più comico Questo almeno lo dice l'autore, poi bisognerà un po' vedere Quindi non diciamo chi è il colpevole, assolutamente Il colpevole è Martufello Sempre, come sempre Martufello Te lo chiamano pure al telefono Te lo chiamano pure al telefono, vieni qui Martufello, tu sei il colpevole? No, io non sono il colpevole Chi sei tu? Sono il padrone di casa Bravo, benissimo, ottimo Il compliantario Ottimo, ho detto più di quello che potesse dire Venite al Salone Margherita, buon compleanno, grazie Una garanzia, vi aspettiamo